Volevo ringraziarmi veramente molto, tanto, tanto, perché non sono abituata a questi primi posti stupendi e fantastici. La mia comfort zone, sapete, è l'ultimo posto. Ma meno male che l'altra sera all'annuncio di Amadeus ero già staiata nel letto, quindi non mi sono fatta male se no svenivo. Sei grande, rock! Non vorrei andare nel lavoro di io. Mi sento sempre un pochino fuori posto. È il tuo posto e il palco scelto. Sì, anche questo è vero, però mi sento a mio agio più nelle tournée che su questo palco. Magari solo l'impatto, il primo impatto e dopo magari ci faccio un po' l'abitudine. Per dire, ieri sera ero un pochino più rilassata della prima sera. Io spero di fare una bella performance, questo è il mio obiettivo. E fare una bella promozione perché questo è il palco più bello d'Italia, quindi... A chi dedicheresti la vittoria, se ci fosse? A Mimì. Grande. Brava, brava. Bravissima. Dobbiamo andare, noi. Vado a presentare il tre. Vado a presentare il tre.